E vi assicuro che il Governo troverà ovviamente con le modalità che ha già trovato in passato l'opportunità per informare, interloquire tempestivamente con il Parlamento e con tutti i rappresentanti del popolo che siedono nel Parlamento. E' altrettanto però importante che questo dibattito si sviluppi con chiarezza, senza falsità. Ecco perché mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, alcuni fatti. Il MES esiste dal 2012. Non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte. Come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato, questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così. Questo Governo non lavora col favore delle tenebre. Questo Governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Si ha qualche proposta da portare, la porta chiaramente guardando negli occhi tutti gli italiani. L'Eurogruppo non ha firmato nulla né ha istituito alcun obbligo. E' una menzogna questa. Secondo, su richiesta di alcuni Stati membri, non dell'Italia, l'Eurogruppo ha lavorato quindi a questa proposta, che non è ancora completata, ma è sul tavolo, di una linea di credito collegata a questo strumento che già esiste, MES, totalmente nuova rispetto alle linee di credito esistenti e diversamente regolate.